Se diciamo è consentita l'attività motoria individuale ma non si può fare la corsa, io capisco che questa è una limitazione, non si può fare footing, ma è capitato di trovare gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e ai bambini, non è possibile, non è possibile. Ora se vogliamo farci una risata, non dovete immaginare che vadano a fare footing, le immagini della pubblicità televisiva, le belle ragazze toniche, i fuso aderenti, quelle cose magari ti riconciliano con la natura. Io ho trovato vecchi vecchi cinghialoni della mia età, andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, arrivava al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra, questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore, in mezzo ai bambini, alle famiglie. Ora è tanto grande il sacrificio di aspettare due settimane, due settimane, tre settimane, vediamo quello che succede. Allora, intanto è consentita l'attività motoria individuale, fatevi la passeggiata anche veloce, ma con le mascherine. Poi, fra qualche giorno, credo che sarà opportuno individuare delle aree dedicate, alcuni parchi urbani, alcune isole pedonali, dove consentire anche, come dire, la corsa senza mascherine. Ma immaginare di avere oggi gente che va sputacchiando goccioline di saliva quando ci sono bambini che passeggiano o anziani che passeggiano, è una cosa intollerabile. Quindi, da oggi in poi, tutti con le mascherine. Chi non indossa la mascherina è una bestia per due motivi. Perché non ha rispetto per gli anziani e per le famiglie e perché non ha rispetto neanche per un lavoro immane che abbiamo fatto come regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina. Non ci sono alibi, non si trova, non c'è, non c'è. C'è, ve l'abbiamo dato. Sono mascherine riutilizzabili, lavabili, le potete disinfettare. Poi, ovviamente, un poco alla volta arriveranno anche nei supermercati, nelle farmacie, ma abbiamo voluto, prima di rendere obbligatorio l'uso della mascherina, diversamente da quanto fatto in altre regioni d'Italia, produrle noi, acquistarle e consegnarle a due milioni e mezzo di famiglie gratuitamente, oltre che ai bambini.